Ion, ho un messaggio per te, torna per favore a casa e, se sei arrabbiato con me, perdonami. Non dovresti ascoltare le persone che ti fanno del male. Tu sei la persona che dovrebbe pensare a noi, con il male e con il bene. Siamo sempre stati insieme, la nostra figlia chiede di te e dice che ti ama. Vuole vederti? Torna da noi. Non ascoltare le persone che vogliono farci del male, per favore, per il bene della nostra famiglia e della tua figlia, non ascoltare Don Ciccio. Torna, non sto bene senza di te. Ti prego, e lo dico anche in rumeno, imieste d'orditine, te iubesco, intoarcete a casa, viatano astra. Per quanto riguarda mio marito, indossa pantaloni scuri e una maglietta nera. È sempre in cucina ad aiutare il cuoco. Se lo vedete, per favore chiamatelo e ditegli che sua moglie e sua figlia lo aspettano a casa. Sono molto stressata e non ho dormito tutta la notte perché quando mio marito non è a casa non riesco a dormire. È strano non sentirlo e non vederlo, manca ormai da due giorni. Che Dio protegga mio marito e lo faccia tornare a casa senza rabbia e nervosismo, per favore. Deve capire che abbiamo una famiglia e non dovrebbe comportarsi così. Siamo adulti e dobbiamo pensare alla nostra dolce figlia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Etermetaller!